La sentenza che seminiamo è stata emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale, pubblicata il 1 agosto del 2017 e porta il numero 1011 nel registro di quest'anno. La sentenza riguarda in particolare la esclusione dalla gara di appalto di una società che infatti ricorre per annullare questo provvedimento? Ecco, si chiede, chiede la società, l'annullamento dell'esclusione che viene disposta nei suoi confronti è motivata con riferimento all'esistenza di un pregresso grave e illecito professionale che emerge dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente ai fini della partecipazione alla gara. Successivamente alla notifica del ricorso, la gara è stata giudicata ad un'altra impresa. Peraltro la stessa società ricorrente dichiara di non avere interesse a impugnare la giudicazione. Tuttavia conserva un interesse a vedere accertata l'illegittimità della propria esclusione per scongiurare le potenziali conseguenze negative che questo atto di esclusione potrebbe arregarne in occasione della futura partecipazione a nuove gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Il Tribunale afferma che questa mancata impugnativa della sopravvenuta giudicazione della procedura non determina l'improcedibilità del ricorso e quindi procede all'esame di quanto gli viene sottoposto. Esaminando il caso, entrando nel merito, il Tribunale fa riferimento all'articolo 80,5 del decreto 50 2016, appunto il codice dei contratti. Questo articolo 80 alla lettera C prevede che un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura ad appalto, qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità. Tra i gravi illeciti espressamente contemplati, lì entrano, per quel che rileva, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo di una condanna all'esercimento del danno o ad altre stazioni. Partecipando quindi alla gara, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto nel marzo del 2016 una comunicazione di risoluzione anticipata, riguardando un contratto di appalto che è stato stipulato come mandante di un raggruppamento temporaneo con altre imprese, con la stazione appaltante dell'aeroporto di Catania. Nella seduta del 2 febbraio 2017 la commissione di gara ha ritenuto che la mancanza di una contestazione giudiziale o arbitrale nei confronti della predetta società, SAC, quindi la stazione appaltante, non consentisse di dimostrare l'inesistenza del grave illecito professionale. E ha proposto quindi l'escursione della società REM dalla gara. La proposta è stata fatta proprio dal RUF che l'ha adottata con la nota nel 6 febbraio. vediamo subito che il tribunale ritiene il ricorso presentato dalla società fondato. Vediamo subito che il tribunale ha deciso di accogliere il ricorso. In particolare richiama comunque l'articolo 80,5 e la lettera C di questo articolo, lo richiamo integralmente, e afferma il tribunale che è la stazione appaltante a essere gravata dell'onere di dimostrare l'inaffidabilità del concorrente e non quest'ultimo a dover dimostrare la propria affidabilità. La condizione minima perché possa configurarsi il presupposto per l'escursione della gara è dunque che la risoluzione contrattuale contestata al concorrente abbia assunto carattere di definitività, a seguito di verifica giurisdizionale in ordine alla effettiva sussistenza dei comportamenti contestati al concorrente medesimo. E afferma il tribunale che un accertamento di questo tipo manca in questo caso. Peraltro da un esame degli atti risulta che quel giudizio, quella contestazione presentata dalla società consortile Fontana Rossa ha portato ad una composizione bonaria dell'avvertenza. Pertanto afferma il tribunale la non definitività della risoluzione contrattuale autodichiarata della ricorrente, non avendo formato oggetto di alcun accertamento giudiziale, non potendo considerarsi altrimenti consolidata, impedisce di valutare come significative le supposte carenze commesse dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto a suo tempo affidato da SAC. Aggiunge il tribunale inoltre che il rilievo di significative carenze nell'esecuzione di un precedente appalto, pur se riscontrato dalla definitiva risoluzione del sottostante rapporto contrattuale, non è di per sé sufficiente dimostrare l'inaffidabilità dell'operatore economico. Dice il tribunale che l'articolo 80 del codice dei contratti, al comma 13, demanda all'ANAC di precisare, mediante l'adozione di linee guida specifiche, quali mezzi di prova debbano essere considerarsi adeguati, ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del precedente, comma 5, lettera C. Ebbene, l'autorità ha emanato le linee guida numero 6, pubblicate il 20 dicembre 2016, entrate in vigore il 3 gennaio 2017, e l'autorità a titolo esemplificativo ha indicato una serie di comportamenti che, ove abbiano comportato la risoluzione del precedente contratto di appalto, costituiscono gravi illeciti professionali, che sono l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattuali, le carenze del prodotto o del servizio fornito tali da renderlo inutilizzabile per lo scopo previsto, l'adozione di comportamenti scorretti, il ritardo nell'adempimento, l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione, l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dall'amministrazione stessa. Qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista che abbia determinato una modifica o variante. Infine, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista che abbia eliminato nel successivo apparto di lavoro una modifica o variante. L'autorità ha inoltre chiarito che comportamenti gravi e significativi a carico dei concorrenti debbano essere valutati dalla stazione appaltante ai fini dell'eventuale esclusione e addettato i criteri cui le stazioni appaltanti debbano attenersi nell'effettuare detta valutazione. In particolare, nel paragrafo 4, si stabilisce che la rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio della proporzionalità, assicurando che le determinazioni adottate perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e di affidabilità, assicurando inoltre che l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico, in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare. Ancora, che l'esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva sull'interessato e sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata. Insomma, la gravità del comportamento deve essere valutata con riferimento alle idoneità dell'azione a incidere sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato e consegue ad un giudizio discrezionale che deve tenere conto di circostanze di fatto, della tipologia della violazione, delle conseguenze sanzionatorie, del tempo trascorso e delle eventuali recidive e il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto. È inteso che il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati. Prosegue il Tribunale, pur affermando di aver tenuto conto della linea guida numero 6 nel deliberare l'esclusione della società dalla procedura, la resistente ha frontalmente disatteso le indicazioni dell'autorità, limitandosi a desumere la sussistenza del grave illecito professionale dal mancato promovimento di iniziative giurisdizionali, iniziative arbitrale, a seguito dell'anticipata risoluzione dell'appalto conferito dalla SAC. Pertanto l'illegittimità degli atti impugnati risiede più che nel contrasto con le linee guida, nel contrasto con la norma. Nella parte in cui ci esclude l'esistenza di automatismi espulsivi, le linee guida, che peraltro non hanno contenuto autonomo, contenuto normativo, scusate, muovono infatti da un'ettura che non può che essere condivisibile. In altri termini, quindi si avvia, conclude il Tribunale, non ogni inedempimento pregresso, per quanto grave tale da aver condotto alla risoluzione di un precedente contratto d'appalto, giustifica l'esclusione dalla partecipazione a gare successive, in assenza di una esplicita valutazione prognostica della stazione appaltante circa la capacità del concorrente di eseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto del nuovo affidamento. Ne discende quindi, dice il Tribunale, la correttezza di una interpretazione dell'articolo 80,5 lettera C, che fa riferimento peraltro a precedenti pronunci giurisprudenziali, per le quali la dimostrazione deve essere effettuata con mezzi adeguati e non deve riguardare soltanto gli illeciti professionali commessi in passato, ma anche e soprattutto l'idoneità degli illeciti stessi a mettere in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente. Infatti, dice il Tribunale, sul piano procedimentale, le linee guida numero 6 non fanno altro che esprimere una ovvia esigenza di rispetto delle regole generali che governano esercizio della discrezionalità amministrativa, a partire dall'obbligo della motivazione. Infine, di contro, lo si è detto, dice il Tribunale, gli atti impugnati non espongono alcuna valutazione concreta in ordine alla pretesa inaffidabilità della società ricorrente riferita alle prestazioni oggetto dell'affidamento. Né la valutazione mancante può dirsi supplita dal generico riferimento alla nota della precedente attenzione appaltante alla specifica attività da svolgere in esecuzione del contratto ad affidare. Per questa ragione il ricorso deve essere accolto e l'esclusione disposta a carico della società ricorrente deve essere dichiarata illegittima e annullata. Grazie. 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 Grazie.